Lo stallone, vi metto pure l'audio perché mi fa ridere, è il mio preferito, guardate l'ho visto con i miei occhi e se volete chiamarlo capobranco fate pure, ma io vi garantisco che non comanda un bel niente, tipo me a casa mia, anche secondo me la gran parte dei mariti che stanno. Lui sì, difende le sue femmine, poi sue per modo di dire perché alla fine ne può disporre solo quando transitano nel suo territorio, nel territorio che sta presidiando. Dopodiché tiene unito il branco, avverte di un pericolo quando se ne accorge e decide chi entra e chi esce. Praticamente per tornare alla scuola è una specie di pitello scolare vecchio sambo, no? E ripeto però, siccome è molto rispettato perché la sua autorità la esercita in maniera leale, non sbaglia mai, è assertivo, viene rispettato dagli altri ma anche un po' temuto, quindi lo isolano anche, lui si isola, fa una vita un po' di scrementizione, no? E sta lì isolato e questo è lo stallone, il capo bravo.